Scusami, avete reagito? Comunque siamo proprio dei viziosi, potevano lasciar venire a casa a dormire fino a un certo punto, non so, secondo me tra di voi si annida uno che dice, che palle, vai venire a casa, secondo me si, tra di noi l'è il vice. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.